Cos'è veramente la felicità? Devi sapere che nasciamo biologicamente predisposti per vivere felici ma poi col passare degli anni ci troviamo ad affrontare sempre nuove sfide, a vivere momenti meno felici e soprattutto a vivere emozioni e stati d'animo negativi che se prolungati nel tempo ci portano all'infelicità. Quante volte ti sarà capitato di provare uno senso di ansia o emozioni forti come la rabbia, la paura e di trovarti fin da subito in uno stato d'animo negativo da cui sentivi di voler uscire il prima possibile e sai benissimo quanto tutto ciò sia nocivo per la nostra salute, il nostro benessere e la nostra felicità. Non solo, ne risentono anche le relazioni, la proattività, la creatività e la capacità di prendere decisioni. Ci sono passato anch'io e so benissimo cosa si prova in quei momenti e quanto sia impegnativo trovare il buon umore o semplicemente un po' di serenità. La bella notizia è che possiamo costruire la nostra felicità e allenarla per vivere la vita con più equilibrio e con meno sforzi. Per giungere a questa autoconsapevolezza occorre conoscere come funziona il nostro cervello e il nostro organismo di fronte a queste emozioni più forti e soprattutto come possiamo viverle con l'intelligenza emotiva. Avere piena fiducia in se stessi e sapere che la felicità è un processo che inizia innanzitutto dall'interno e che può essere allenata giorno dopo giorno ti aiuterà ad aumentare la tua autostima e a vivere la tua vita con maggiore equilibrio emozionale. Ecco, per me la felicità è poter vivere ogni giorno in armonia con il mondo esterno, provando le mie sensazioni e le mie emozioni e non vivendo secondo le notizie e gli eventi esterni o la lamentere degli altri. Nel corso intensivo Tutto il bello che c'è in te imparerai a riconoscere l'importanza dei bisogni umani per migliorare i rapporti con i figli, con i tuoi colleghi, con gli amici o con il partner. Grazie all'approccio con l'intelligenza emotiva e con la comunicazione empatica imparerai a vivere le emozioni e a gestire le relazioni secondo le sensazioni e non secondo le reazioni istintive. Infine potrai creare anche tu la mappa dell'autoconsapevolezza per individuare come vivere in equilibrio nella tua vita e come allenarti alla felicità. Sarà un primo passo per dire insieme benvenuta a felicità. Dimenticavo, io sono Stefano Macri, formatore in scienza del S e autore del libro Benvenuta Felicità. Ti aspetto a Verona il primo dicembre. Ciao!